Un saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, un nuovo videocorso estivo caldo dedicato ad una splendida risorsa per l'inclusione. Parlo di Arasaac, un sito web, osserviamo il sito di riferimento arasaac.org, accessibile da qualsiasi dispositivo, molto noto per i docenti di sostegno, anche italiani. Lo segnalo con piacere perché proprio di recente il mio buon amico Albano Battistella, sulla sua pagina Facebook di divulgazione didattica Zorin OS Education Italia, ha dedicato un post a questa risorsa. Ed allora a che cosa serve? Si parla di una risorsa web istituzionale governo di Aragona e si occupa di comunicazione aumentativa e alternativa, in che senso? Vedete già lo sfondo della pagina web tradisce che in alcuni casi quando il linguaggio è difficoltoso, compromesso, dove è necessario innescare dei maggiori processi cognitivi, un pittogramma, una immagine possano senza dubbio aiutare. Ed allora se notate abbiamo la home page del progetto, seleziona la lingua italiana, già è così, clicchiamo su scopri arasaac e veniamo ricondotti dove in realtà. Allora intanto clicchiamo su salta per non avere questa sorta di accompagnamento all'utilizzo, però vi mostro sotto ed è molto interessante che abbiamo una raccolta splendida con licenza creative commons, quindi è un progetto aperto inclusivo, lo possiamo utilizzare in classe a casa come vogliamo, sempre ovviamente nel rispetto, come dire, del buonsenso e delle citazioni. Vedete simboli CA significa che abbiamo una raccolta di pittogrammi pronti, i materiali ci propongono talune attività, occhio è in spagnolo pur localizzato in lingua italiana, se io clicco su simboli CA, ecco che accediamo alla raccolta dei pittogrammi divisi per categoria. In realtà vi mostro che a sinistra abbiamo una barra a scorrimento verticale che ci consente di ricercare i materiali per parole chiave, la stessa operazione la possiamo fare dalla barra di ricerca al centro, oppure possiamo cliccare ad esempio su comunicazione, cioè su una delle categorie in lingua italiana, andiamo a scorrere la nostra pagina e vediamo come ad esempio per il lessico, ecco andiamo un pochino a vedere aggettivo qualificativo, clic, ed ecco che abbiamo dei pittogrammi relativi o comunque utili al fine di favorire la comprensione mediante il pittogramma di un aggettivo, ed ecco ad esempio che con due sfere di uguale dimensione con la dicitura uguale, con una flashcard, possiamo chiamarla così, in realtà è un pittogramma con l'uguale barrato abbiamo il concetto di disuguale. Se noi andiamo a fare un clic sulla freccia rivolta verso il basso, scarichiamo un pittogramma, vedete, nel formato png, clicco su salva, pertanto ho una immagine a disposizione in ottima qualità grafica che posso a questo punto stampare ed ottengo delle flashcards, in realtà vi ricevo sono pittogrammi, ho questi miei bolli con le immagini illustrate che posso usare in moltissimi casi, penso appunto all'inclusione ai DSA, più in generale ai BES, diverse le fasce di età coinvolte e anche un ausilio, mi sento di dire, per gli alunni stranieri, vediamo il caso recente, ad esempio di alcuni alunni giunti dall'Ucraina all'interno delle classi italiane e sicuramente anche in quel frangente un pittogramma può essere esplicativo di un concetto, di un contenuto. Una bellissima ed utile risorsa, vi mostro ancora che cliccando su materiali, eccoci qua, e andando poi su cerca, nonché su pubblica, perché i materiali possono anche essere pubblicati dal docente che li abbia, abbiamo, attenzione, dei materiali pronti che tuttavia possono essere, quindi schede gioco e quant'altro, in lingua spagnola. Quindi ecco, mettiamo in conto, la problematica non si pone se ad usarli è ad esempio un docente o una docente di lingua spagnola, che i pittogrammi localizzati in lingua italiana hanno il termine nella nostra lingua, mentre i materiali possono essere ancora in lingua spagnola, proprio perché, lo ricordo, il nostro Arasac è un progetto del governo di Aragona e mi piace sottolineare come ogni volta che a livello governativo ci si muova per valorizzare istruzione ed educazione, si getti sicuramente un seme importante nella crescita di ogni studente, ma che dico, di ogni giovane cittadino. Spero che vi sia utile, vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso, provate dunque arasaac.org e ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto.